Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it. Dall'applicazione Ufficio Postale è possibile, tra le altre cose, prenotare il tuo ticket in posta ed evitare la fila. Ovviamente devi avere l'app installata e conoscere le tue credenziali poste per effettuare l'accesso. Se hai tutto, procedi quindi ad aprire l'app e tra i vari servizi disponibili, clicchiamo su Cerca Ufficio e Prenota, indicato dalla freccia. Dopo aver cliccato sul servizio, ti chiederà di effettuare l'accesso con le tue credenziali. Una volta fatto l'accesso, vedrai l'elenco di tutti i servizi prenotabili e devi cliccare su quello che ti interessa. Nella pagina seguente ti chiederà di abilitare, se vuoi, la geolocalizzazione e di autorizzare l'app a usarla. Puoi anche cliccare su Nonora inserendo la città o l'indirizzo nella barra di ricerca indicata più in alto. Dopo aver inserito il luogo, vedrai una mappa con tutti gli uffici postali disponibili per la prenotazione online. Potresti dover ingrandire la mappa per vedere tutti gli uffici. Una volta che trovi l'ufficio, gli clicchi sopra e ti si aprirà una finestra da cui dobbiamo cliccare su Prenota. Dopo aver confermato la prenotazione, visualizzerai un QR code e un codice. Dovrai con questi recarti in posta all'orario scelto e al tuo arrivo in ufficio devi fermarti al totem, quello dove di solito prendi il numero e scansionare il QR code o inserire manualmente il codice. Verrai chiamato al primo sportello libero.